E ciao a tutti ragazzi, io sono di nuovo, e dico di nuovo perché appunto sono di nuovo io, perché sto registrando sto video dopo quello del SCP che abbiamo visto la volta scorsa, ovvero lui, l'SCP 261, distributore pandimensionale. Abbiamo ottenuto tipo troppa roba, molto strana anche, tipo sto cibo, vari, svariati cibi, di cui alcuni li ho messi qua, li ho messi qua, alcuni, quelli che non, non stanno su Minecraft, che vabbè, potrebbero anche non essere sicuri come Levi, questo qua, e anche questi SCP che vedremo, mi sa, nel futuro. Ora, li abbiamo trovati con questo SCP, qua ho alcuni cibi che mi devo consumare, quindi se, yeah, dentro c'è troppa roba, prima però voglio consumare questa SCP 999 Go, che non fa niente, va bene. Dormiamo nel letto, intanto non lo so come, la volta scorsa, è morto Josie, è morto così nel muro, cioè, vabbè, adesso lo riprendiamo, 5, 2, 2, 2, 9, 2, vabbè, 5, 2, 9. Facendo così, dov'è, no, eccolo qua, quindi lo abbiamo ripreso con l'uovo di spawn, che adesso spawniamo, e speriamo che me lo fai addomesticato. Vabbè, per ora lo tengo addomesticato, se ho dell'oro, cioè, vabbè, tanto il formaggio si fa con il latte, ora tu vai libero, scorrazi, anzi, mi sa che non la domestico nemmeno, la lascio, no, dopo la domesticherò. Comunque, direi di andare dall'SCP di oggi, se lui non uscisse da, ok, non è uscito, scorri elettro, è molto lontano come SCP, veramente lontanissimo, raga, si trova, dobbiamo superare un'isola per andare dall'SCP di oggi. Quindi, direi di andare camminando, e intanto, raga, allora, aspetta, ecco, ecco, intanto è laggato, però, perché là si è generato il portale. Prima di andare, voglio fare una cosa, R, no, non è, eh, R, ecco fatto. Vado a casa a mettere il portale, che la volta scorsa mi sono scordato di farlo. Ok, raga, siamo da 914, perché ho sfornato il ferro, e avevo messo qua, ecco qua, il portale. Adesso, raga, mettiamo il portale blu, e quello, intanto mi si vede, vabbè. E direi adesso, seriamente, di correre dall'SCP di oggi, perché è veramente una roba lontanissima, l'armatura non si è ancora consumata, il che è buonissimo, veramente. E il ferro, no, mannaggia. Mi sono scordato di lasciare il ferro, comunque, intanto, prima butto sta ciotola, che mentre andavo, sono riuscito a mangiare qualcosina. Dobbiamo mangiare il più possibile roba, perché, sì, dobbiamo ingrassare, raga, in sostanza, questo è quello che dobbiamo fare. Sì, perché, appunto, è bello ingrassare. E, vabbè. Direi anche di andare dal SCP, vabbè, questo lo stavamo facendo da prima. È veramente lontanissimo, dobbiamo superare il mare, pensate voi. Inoltre, è all'esterno. Sì, raga, è all'esterno. L'SCP di oggi è all'esterno. Non so come sia possibile che l'SCP si trovi all'esterno, però è all'esterno. Quindi, direi di correre, di andare. Dobbiamo superare il mare. Quindi, raga, ci vediamo fra poco. Ok, raga, siamo arrivati sull'isola. Intanto, raga, l'SCP è ancora più lontano, si vede... Ecco, vedete quell'albero lì del... Di coso? Intanto sono caduto, vabbè. Non è nulla di particolare. Vedete quest'albero? Ecco, quell'albero fa parte della cella. Infatti, si era visto anche per un attimo del materiale di contenimento della cella. Cioè, io l'ho vista, non so voi. Ma penso veramente che l'aviate visto. Qua ci sono dei semi che eviterei anche di prenderli. E, raga, effettivamente, vedete? Questa qui è la cella. C'è proprio così a random. Inoltre, la cosa più particolare è che c'è la neve. Cioè, allora, inoltre, qua, vedete questo blocco di terra? Questa è terra brulla. C'è questa cella, spawnata così a random, con degli alberi del bioma delle nevi e la neve. Potrebbe essere che l'SCP ha a che fare con la neve? Comunque è Keter. SCP-354. Lo conosco, lo conosco. E ho anche capito perché ha a che fare con la neve. Perché la sua area di contenimento è contenuta nella neve. Quindi forse potrei aver capito perché si trovi all'esterno. Lo conosco comunque questo SCP. Prendiamo il label. Ah, c'ho anche da questi da consumare. Consumiamo prima questi. Allora, vi spiego. Tanto aspetta. Prima voglio vedere una cosa. Sì, è veramente lui, è veramente lui. È la Red Bull. Chiudi, ti porta. Sì, raga. Allora, SCP-354. Molti se lo ricorderanno. In pratica è un lago rosso che può generare da sé svariate entità. Si dice che siano più di venti. Tuttavia, sono venti l'entità, sì. Però il problema è che di queste venti ne si è a conoscenza solamente di almeno, mi pare, 11 o 19. No, non 19 di meno, 9. Cioè, di venti solo 9. Ne si è a conoscenza. Questa è l'area di osservazione, ma anche quella di sopra. Questa è, comunque, se ve lo chiedete, tutta la sua area di contenimento. E questi tentacoli è una delle entità generate dalla pozza rossa, SCP-354, che sarebbe quel liquido lì. Allora, intanto qua ci sono scaffali. C'è il token, c'è il token, che è quello che ci serviva. Comunque, l'SHP, inoltre, è il primo SCP-Cater che vediamo. Qua c'è, vabbè, spazzatura. La solità roba. Prendiamo anche l'arco. Raga, l'arco è buono. È buono, per carità, eh. Prendiamo... Ok, che è storia, vabbè. C'è anche un altro oggetto sparticolare. Veste antifrecce. Che è anche migliore della corazza in ferro, vabbè. Me la metterò quando finirà la durabilità della corazza in ferro. Comunque, aspetta, avevo notato questo. SCP, catalogo. Catalogo delle ricette SCP. Che mostra tutti i crafting, mi pare, eh. Sì, guardate. Posso fare la sedia, l'armed chair. Vabbè, non è chissà quanto... Cioè, perché avevo questa. Però, comunque, c'è una cosa. Questo qua, so che è anche un altro SCP. È il 000-J. Allora, 000-J lo conosco anche. Ed è molto popolare. Comunque, direi che abbiamo visto fin troppo delle SCP. Da quando siamo arrivati, non si è generato nessun mostro oltre questo qui. Che c'era già. Quindi, ci metterà un po' di tempo per generare, penso, le altre creature del Lago Rosso. Intanto, si sta anche facendo notte. Eh, sì. Quindi, direi di entrare. Questo qua, raga, attenzione. Dobbiamo evitarlo. Per tutti, per nessuna ragione al modo ci dobbiamo avvicinare a lui. Il liquido è questo qui. Provo a immergermi. E stiamo lontano a lui. Lo posso prendere? G? No. No. Mi sa di no. Aspetta. G? No, non sono troppo... Eh no, non mi devo avvicinare molto. Comunque, il liquido non fa nulla. Qua c'è tipo qualcosa? Sì, c'è della terra. Vedete? Quella lì è l'SCP. È la Red Pool. Ok, abbiamo visto che non fa nulla. Sperando che non si generino i mostri, voglio provare a prendere un secchio. Ho preso un secchio, si chiama liquido della pozza rossa. Aspetta, però noto una cosa. Ah, ok. Stavo dicendo... No, era infinito. Se era infinito... Mi sa che l'ho buggato. Ho buggato l'SCP. Se io faccio così... Ok, si è sbuggato. Quindi, raga, possiamo... Allora, io... Sapete una cosa? Questo liquido comunque non fa male. Quindi lo prendo. Perché sì. Tanto il secchio lo posso pure rifare. Liquido della pozza rossa. 3, 5, 4 bucket. Adesso vediamo lui. Ai, eh, chi è che mi... Oh, mio Dio! Un ga... Eh, il ga... Eh, sì, lo conosco. Questo qua è un altro... Ecco, sono morto. E... Vedete? 3, 5, 4, 16. Si è generato un altro mostro della Red Pool. Adesso però devo correre. Perché se no... Mi rubano la roba. C'avevo la chiave. Sì, c'avevo una chiave. Guardate, raga, se si mangia il cibo io sarò felice. Ci vediamo fra poco. Ok, raga, allora. Sono riuscito a riprendere tutta la roba. Comunque ci ha ucciso... Quello lì! Quello lì! Che io so anche chi è. 3, 5, 4... Come l'abbiamo visto dalla chat. Chi era? 3, 5, 4, 16. E il 3, 5, 4, 16. Io ricordo che era innocuo. Invece qua è aggressivo. Cioè, in realtà non so. Perché tutte le entità... Il fascicolo dice che tutte le entità sono aggressive. Però questo... Lui... Non mi ricordo. Lui sapevo che era ostile contro un altro mostro della Red Pool. Allora, raga, è molto forte. E non so se riusciremo a sconfiggere, ma penso di no. Perché con un'armatura in ferro... Cioè, letteralmente... One-shot-tato. Cioè, ci ha preso alla sprovvista. Allora, ci sono anche i mostri. Ciao, mostri. Non mi... Non verrete mai a prendermi. Che poi ho notato una cosa. Non si generano i mostri. Perché non si generano... Cioè, nella cellula non si generano i mostri. Ah! Sta cosa... Si chiama ringhiera. Ed è anche un SCP 087. 087 è la scala. Vatti sotto, coso? Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Muori. Muori. No, scappa. Scappa, scappa. Scappa tantissimo. Scappa tantissimo. Non farti prendere da quell'altro. No, scappa, scappa. Scappa tantissimo. Non venire, coso? Non venire tantissimo. Ok, ci godo tantissimo. Lo devo prendere, mi sa, con le frecce. Però lo devo aprire la porta. Ok. Dobbiamo ucciderlo, quello. Ok, mi ha dato pure l'achievement. Intanto, aspetta. Rigeneriamo. Poi, in realtà... Vabbè. Sto prendendo danno. Questo qua deve morire. E mo', deve ancora morire. È bello resistente. Vabbè, la... Questa difesa la posso anche togliere. Intanto posso prenderlo... Non pare neanche... Dobbiamo anche fare attenzione che si generi un altro mostro della Red Bull. Perché se se ne genera un altro... So, cavoli amari. Lui è ancora lì. Lui è ancora lì. Raga, allora... Non so se... Quanto lungo verrà sto video. Mi sa che verrà una cosa come 20 minuti. Se viene 20 minuti, devo staccare tipo troppo? Devo fare troppi tagli. È questo il fatto? Deve morire. Quello deve morire, comunque. Ok, stavo per dire che stavo per venire. Quante frecce ho? 18. No, mi sa che non ce la faccio a farlo... Potrei anche recuperare questa di freccia? Ho paura di attirarlo. Ok. Ah no, ha preso danno. Ha preso danno. Buono, buono, buono. Mangia. Mangiamo. Andiamoli un altro piccolo spa. Non, non viene. Buono che non viene. Però è bello resistente. È bello resistente. Noto questo fatto che lui... Non se... Non venire. Ne ho 13 di frecce. No, raga, sta... Dobbiamo anche stare a fare attenzione a lui. Vabbè, lui è no. Lui, finché non ti avvicini, non fa nulla. Ma non muore, raga. Questo è il fatto. Non muore. Quanta... Quanta vita c'ha sto coso? Ma perché non mi sono messo quella mod che mi fa vedere quanta... Vabbè. Ehm... Vabbè, lui, raga, è tipo una cosa... Devo prenderlo con G. Con G? Vai, vieni. Vieni. G! L'ho preso! L'ho pre... Oh mio Dio. Sono un bravo. Però non lo posso tenere, perché appena lo stacco... Questo mi attacca. Potrei fare una cosa. Devo prendermi tutte le frecce. Dove sono? Potrei buttarlo nell'acqua, così sarà almeno più debole. Sì, raga, immergiamolo. No. No, mi ha preso la sprovvista. No, devi... Corri! Corri di nuovo! Scappa, scappa, scappa. Scappa. Niente, raga, è troppo forte. Troppo... No, mi sta ancora seguendo. No, buono, no, buono, no, buono. Ah! Perché mi si è bagato tutto? Mi sta seguendo? Mi sa di sì. Mi sa... Cabo, scappa! Perché c'è sistemi che fanno schifo G! G! Oh! Mio Dio! Mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Raga, stavo morendo tantissimo. Raga, stavo morendo tantissimo. Rimettiamolo nella Red Bull. E scappa tantissimo elettro. Scappa, scappa, scappa. Esci, non entriamo più, raga. Non entriamo più. Abbiamo visto abbastanza. Ci sono tantissimi altri mostri. Cioè, questo qua, raga, è solo uno. Però ce ne sono tantissimi altri. C'è anche questo qui tentacolo. Mi dispiace non farveli vedere. Mi sa che li potremmo vedere quando faremo il nostro laboratorio. Perché, raga, sì, dobbiamo fare un laboratorio. E contenere gli SCP. Tanto, raga, noi l'SCP ce l'abbiamo. Ed è questa pozza rossa. Questo liquido rosso. Il liquido. Non è né quello né quello. L'SCP è il liquido. Quindi, raga, noi potremmo anche già andarcene. Però mi dispiace non farvi vedere le altre creature di questo mostro e non farvi... Non avervi fatto... Niente. Ho buttato la chiave. Ma poi questa ce l'ha quanta... Leve... Raga, eh... Le chiede una carta di livello 5 per entrare in sta cella con que... Vabbè, capirei. Cioè, scusa. Eh... Io non entrerei in una cella con un SCP. E anche per entrare level 3 va bene. E usciamo. Di qua, raga, non ci entriamo mai più. Perché tanto ormai l'SCP l'abbiamo preso. Possiamo anche fare una fonte infinita. Però per farla... Mi serve altra Red Bull. Mannaggia che non c'avevo due secchi. Quindi, raga... Io corro a casa. Questo lo metto al sicuro. Il secchio. Perché mi potrebbe... Cioè, non mi servirà per ora nulla. Però... Devo... Devo anche farmi il secchio normale. Quindi, raga... Da me... Elettro 16. E tutto. Cioè, abbiamo visto l'SCP. Abbiamo visto... Una buona parte delle cose che fa. Infatti, il leopardo. Quello là. Chiamiamolo leopardo. Poi in realtà... Sì, sì. È un leopardo. Dovrei anche riuscire a ucciderlo un giorno. Cioè, dovrò ucciderlo un giorno. Perché... L'abbiamo... Abbiamo visto che lui si era generato. Ci ha attaccato. Mi sarebbe anche piaciuto farvi vedere gli altri mostri. Ma... Purtroppo... Meh. Quindi, raga... Da me... Elettro 16. È tutto. Ah, io potrei... Ma poi sono scemo che vado tutto indietro. Quando potrei fare... Semplicemente... Così. Ok. Adesso. Vado a casa. Cerco di... Perché si è buggato il portale? Si è buggata la portal gun? No! Mannaggia Pippo. Vabbè... Ritornerò a piedi. Ciao!